musica 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 ragazzi, buon Gododay e bentornati incredibile su un nuovo episodio di Palward che mamma mia porta delle novità degli aggiornamenti che mamma mia sto già godendo finalmente è uscito l'aggiornamento per Palward, il primo grande aggiornamento per Palward dove hanno messo una marea di roba, hanno messo il Raid Boss, mi sono letto qualche cosina però di fatto sono entrato adesso, infatti vedete che è tornato il tutorial, il fatto che puoi catturare il Raid Boss e usarlo però è strana sta cosa, a parte questo è Super Endgame, per quando ci arriveremo noi ne avranno messi 5 probabilmente però è un po' sus perché puoi catturarlo il Raid Boss ma allo stesso tempo lo puoi portare come companion è una cosa strana, hanno aggiunto oggetti sus, hanno cambiato un sacco di cose anche graficamente, hanno migliorato le texture hanno messo, vedete, un sacco di emoticon nuove pure sotto informazione sulla base che c'è il simbolo dei lettini e il simbolo dei PAL dovrebbero aver corretto qualche cosa sull'incubatrice, che non ho capito perché io non ho mai avuto problemi con l'incubatrice dovrebbero aver anche aumentato l'intelligenza dei PAL per quanto riguarda la mappa non credo abbiano aggiunto cose nuove dovrebbero aver fatto insomma un sacco di improvement godosi per quanto riguarda PAL e tra questi improvement hanno messo di nuovo il tutorial, che era finito e adesso guarda caso mi dice dirigi verso la montagna, dirigi verso le dune visita prima riserva quindi adesso il tutorial mi indica dove sono i nuovi capopalestra probabilmente perché quando mi dice dirigi di là e là secondo me mi da idea di torri incredibili non ho fatto granché off camera in realtà rispetto all'episodio 9, come vedete siamo livello 31 abbiamo la pistola, non mi ricordo se ve l'ho fatta vedere la pistola abbiamo l'altro episodio abbiamo sbloccato la possibilità di fare i proiettili e come vedete dall'altro episodio i miei proiettili sono ancora a 10 su 320 cioè per quando finirà questi cosi probabilmente ci vorrà una vita perché ci lavora solo questa tipa qui e ci mette anni per fare il lavoro quindi probabilmente i proiettili li vedremo tra un bel po' di episodi vediamo un po' sweepa, sweepa è quello con i baffi perché non mi fa mettere l'uovo scusa cioè ho 3 incubatrici ne ho fatta pure una in più ho un uovo perché non mi fa mettere l'uovo? aaaah hanno cambiato qualcosa allora come mai l'incubatrice non mi funziona più come prima? cioè prima mettevo l'uovo e boom adesso non mi succede più, vedi? aspetta c'era una roba che avevo letto ma non so se era riferita a queste devo vedere che hanno bisogno di energia adesso le incubatrici non è più come prima, vuoi vedere? ecco il generatore elettrico, vuoi vedere che mi serve questa? costruiamo questa roba qui basta 3 minuti e 45 ci mette qualcuno che mi dà la mano? oggi useremo anche la mount volante nuova perché ho catturato un altro di quei uccellacci da fuoco lo vedi? c'è bisogno di un generatore per far funzionare lui quindi da oggi in poi mi serve un elettro dentro qui non ce l'ho uno che fa elettricità ah no lui mi da fulmine no che sto dicendo scusami lui mi da fulmine dove sei? eccolo questo qui vieni 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 ti posso sollevare? amico? c'è fame? voglio vedere se funziona perché c'è a livello 2 ok si dai grande brava piccolina vai carica carica c'è bisogno di energia qua eh molto bene questa diciamo che è un miglioramento abbastanza intrigante va bene poi in squadra abbiamo Pandina che è il nostro mezzo tank abbiamo Megumin che è l'adoro abbiamo Neve che è a livello 2 l'ho potenziato un pochino poi abbiamo lei che abbiamo cattolato un altro episodio che poi gli daremo un nome Sus e poi abbiamo lui vediamo un po' se è più veloce si è più veloce sicuramente di Tempest non tantissimo eh e ha anche degli attacchi diversi ovviamente scintilla di fuoco colpo di fuoco e cannona d'aria vabbè abbiamo fatto anche la pistola con rampino non l'ho ancora testata quanti roiettili abbiamo? non so perché si mette in tiposo quando metto la pistola forse è contento ah certo ho 0 roiettili perché non me ne sono portati appresso ne abbiamo 203 vabbè non è male vabbè niente non posso vedere però mi pare che io posso farmi anche la pistola quella seria non questa pistola giocattolo giusto? questa è la pistola artigiana è una pistola vera? eccola vedi lano possiamo fare pure la pistola vera e anche le sfere pallorose ragazzi mamma mia la roba allora mi piacerebbe affrontare anche un'altra torre ma non so dove andare quindi dirigili verso la montagna dei ghiacci eterni e sfida il boss della torre dell'ent della tutela dei pall vedi ce ne abbiamo due e quell'altro invece della milizia volontaria vabbè non ho idea di quale sarà quello più conveniente questo che livello è? 23 bushi scusate posso andare a vedere che diavolo è bushi perchè sembra vagamente un samurai dall'altro episodio che questa emoticon sus di questo pall mi stuzzica quindi voglio capire che diavoleria è questo no sbagliato scusami quanto danno farà secondo voi questo pall nuovo che sarà il nostro migliore amico al posto di tempesta per adesso non ne cogio uno vediamo un po' ci beh non fa molto danno colpo di fuoco scusami ok diciamo che il danno non è emozionante vabbè è anche al 15 questo poveretto ma che colpo è quello scusami è un rumore stranissimo cosa è tipo lanciafiamme non voglio capire ma che diavolo di attacco è scusami ah è una roba che fa più hit ok abbastanza sus si questo è un pall che devo assolutamente portare sul di livello perchè altrimenti ci facciamo veramente notte ora andiamo a vedere che diavolo di diria è quel bushi eh ma qui c'è un'altra chiesa di marica non so perchè in pall ward hanno pensato di metterci queste cose che sembrano uscite dalle ring c'è una cosa che farò probabilmente più avanti mi toccherà prendere una mappa e vedermi tutte queste sfarente verdi perchè altrimenti non le sbloccherò mai tutte ok ah il cavallino c'è univolt questo l'avevo visto dal mercante eccolo univolt beh il 31 mi da di fortino eh questo magari lo lasciamo qua mi chiedo se questo aggiornamento farà tornare un po' di gente a giocare il suo gioco ho letto che la gente aveva smesso completamente di giocare a pall ward cioè ero droppato tipo a ha meno 95% dei giocatori una roba veramente intrigante oserei dire allora io mi metterei pandina e vediamo un po' che diavolo c'è qui dentro vediamo un po' mi incuriosisce sto bushi no vabbè perché è Sekiro ma scusami ma è veramente un samurai ma sei bellissimo scusami è Sekiro ok forse ho fatto un errore a mettere pandina che è tipo erba wow vabbè questo lo chiamo Sekiro sicuro ma è fighissimo ok ma che figo pure il ghiaccio usa ma è fortissimo sto pallo vai pandina pandina mi piace tantissimo come come pseudo tank anche eh ma questo mega pugno è fortissimo mettiamo un attimo neve va che forse se la cava meglio il ghiaccio vai neve eh si neve è molto meglio qua ma è bellissimo questo mi taglia di pall forte eh diciamo che non abbiamo pall molto forte in questo caso conto di noi proviamo a mettere un tipo acqua questa 18 non è un danno eclatante però si può fare però non vi dovete bloccare i miei meno male che hanno aumentato l'intelligenza artificiale di sti cosi eh ci vorrà un po' ragazzi qua mi ha fatto un attacco veramente intrigante va bene ok ce l'ha morte con me no 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 vorrei evitarlo ok allora fa questo attacco veramente sussi no ha scrivato il mega pugno di pandina lo sa tanto perchè fa questo oh 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 ma dai ma fa questo attacco che è fighissimo si deve trasporta manco fosse zoro veramente no ma guarda che infame fa il pre raid al pugno di pandina non so come facciamo un cambio suss eh si lo so che ho preso alla grande proprio dobbiamo iniziare a fare così eh no c'ho pochi proiettili cavolo sta pistola un po' suss comunque eh con calma dai 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 molto bene si la pistola è stata essenziale mi ha dato pure un botto di punta esperienza Bushi molto molto bene allora voglio assolutamente testare questa creatura in attesa di generazione ma guarda che puoi andare pure da un'altra parte cioè mettiamola a lavorare qui porella ma senti sei in palla questa ecco mettiamola a lavorarli ma guardate quante belle sfere palle tutte belle tecnologia attenzione tra l'altro non abbiamo mai fatto la lampadina che ci può illuminare quello che interessa anello di pietra carino per la cattura di pal distanti quello potrebbe essere carino che vuol dire chi lo porta non può far scendere sotto di uno la salute del bersaglio cioè se ho questo anello e colpisco un pallo il pallo mi rimarrà sempre uno di vita mi sembra una cosa abbastanza rotta cava di metallo ma mamma mia questo all day every day proprio cava di metallo ragazzi questo ci potrebbe cambiare completamente i giochi qua eh set di contenitori un set di contenitori perfetti per costruire gli oggetti questo sarebbe figo posso metterci in fito dentro calderone da strega facciamo questo in produzione in armi facciamo il calderone e i pomodori ah no niente uno vabbè ci facciamo facciamo lampada vai cava di metallo questa roba va fatta alla velocità della luce però non so do metterla vabbè la mettiamo qua tipo smontiamo il ranch perché intanto il ranch è stato assolutamente una delusione e guadagniamo un botto di spazio perché tanto è inutile ragazzi era una struttura veramente patetica io l'ho fatto pensando ingenuamente che potessi fare accoppiare i palli in maniera normale ma servo la torta la torta mi sembra una cosa veramente avanzata io spero che qualcuno venga a lavorare qui perché questo è il futuro eh questo è veramente il futuro ma scusa ma questo mercante oh signore buongiorno ma che fai? mi viene a rubare la roba? scusi? compra ah vende i proiettili questo potrebbe diventare il mio migliore amico allora vabbè però posso spendere tutti i soldi dei proiettili adesso mi sembra veramente esagerato dai vabbè dai facciamo l'unica cosa che mi viene in mente da poter fare con quest'uomo che è una cosa un po' brutale però che dite ragazzi eh già è arrivato quel momento ragazzi è arrivato il momento più divertente del video non entrare mai più nella mia proprietà uomo ok vabbè forse non so se ho fatto una cosa positiva vi faccio notare quanto è diavolo e forte il nostro personaggio ragazzi può sollevare un mammut di due tonnellate con una mano questa cosa è iconica per quanto mi riguarda allora lanciamo questo palo a lavorare qui a sto punto da oggi in poi il nostro mammut lavorerà qui vai vai cominci a lavorare qui oh bravo allora per quanto riguarda farsalina la nostra base incredibile dobbiamo fare edifica fabbrica per la produzione in serie di sfere palla eccolo ci servono 100 lingotti d'oro minchia ce ne servono quanti? 100? quindi facciamo 50 qua e 50 qua come dire abbiamo fatto dei piccoli miglioramenti che secondo me sono abbastanza sus 30 su 50 e devo farne un po' alla volta piano piano li fa livello 2 di fuoco 3 di legna questo è davvero in base sempre il problema di questo affare però è che fuoco pure lui io adesso volevo usare lei che era acqua lei ha oscurità fuoco lui ha tutto ha ghiaccio erba e fuoco quasi quasi lo sostituisco a lei perchè lei non è che mi sta a fare impazzire eh? ah è bellissimo Bushy alla morte il suo volo si trasforma in una lama da mandare su successori che figata se a impugnarlo non è un altro Bushy l'anima all'interno della spada urla fino a portarlo alla follia questo lo vorrei catturare tantissimo però al 30 mi da veramente di forte eh? un draghetto fatato che carino allora lui sarà Sekiro e lui lo rinomineremo Artiglio questo è al 28 quasi quasi a me sta venendo un'idea Sus che dite se proviamo ad andare a catturare petalia? allora abbiamo i nostri colpi di pistola incredibile aaaaaa bene era una vuoto Sus è il momento di usare no vabbè non voglio sprecare i miei le mie risorse in questo momento quindi ah ma sono proprio tutti qua bene è tipo erba quindi magari potrebbe essere facile quindi direi di provarci vai ok vai è adorabile mamma mia pure questa vai Sekiro mamma è forte Sekiro ok spariamo un po' di colpetti ok 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 fortina no 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 battaglia tra wife vai 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 vengo vinti prego vengo vinti tesoro ok ho fatto un headshot purella oh avevo detto che non volevo sprecare tutti i proiettili mi sto a sprecare tutti però va bene ne vale la pena secondo me ok vai Megumin dove vai Megumin tesoro 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 non ho visto il colpo allora devo fare una cosa un po' Sus qua eh ok vai c'ho cinquantaquattro di vita ragazzi eh ci vuole un po' di tempo però ce la facciamo dai ventuno dai molto bene molto molto bene mi ha droppato i fiorellini questa cosa è ancora più adorabile dai due pall intriganti abbiamo catturato ah il lanciafiamma adesso wow è diventato di colpo un pall fortissimo Artiglio oggi proprio un mega super uovo ardente uno di quegli episodi assurdi oggi eh mi chiede da ridere perché se avessi continuato ad usare frecce contro quell'affare ci avrei messo duemila anni questo sai di livello numero richiesto quindici si trasforma in pianta quando la morte è vicina una volta ogni dieci anni sboccia uno spedito fiori da cui nasce un nuovo semplice di petaglia e anche questa mi sa che va nella categoria waifu di Balward a quanto pare 3 2 2 2 1 acqua erba attenzione cioè più difesa petaglia di pandina eh questa cosa battestata pandina mi piacerebbe metterla qui però a lavorare eh però è anche vero che ho le apette che mi piacciono troppo come combo allora ragazzi fammi un po' vedere petaglia il nome del godo non so come chiamarla secondo me finirà che io mi farò una squadra di sole waifu all'attivazione del potere curativo di fiore ti fa non ci credo che ha Lionel ti cura una petaglia maschio? lo chiamerò con un nome intrigante Astolfo e chi capisce capisce io non farò altre battute però Astolfo sarà parte del nostro gruppo in clip ragazzi è stato un episodio incredibile ha rivistiato 400 di vita vabbè non è male ok ragazzi che cosa sono con voi e ci vediamo nel prossimo episodio ciao